Tu devi stare rilassato e tranquillo Sì, sono quelli nuovi Ti piacciono? Vediamo l'altra Bellavissima E rifiusi A-S-M-R Ciao tesoro Ma chi è questo mento coraggioso? Mi vuoi dire il tuo nome? Antonio, ciao Ma cosa ci fai qua? Cosa ti è successo? Ti sei sbucciato un ginocchio? Oddio, mi dispiace moltissimo tesoro Mi vuoi raccontare come ti è successo? Intanto guarda, sediti qua Accomodati qua, sediti qua Tranquillo tesoro, tranquillo Adesso ci sono io Che mi prenderò cura di te Mi vuoi raccontare cosa è successo? Sei scivolato? Sei scivolato nelle scale Venendo su stamattina Ah, ma allora sei venuto sulla corsa? Piricchino Piricchino Ma non dovete sempre aspettare l'ultimo minuto per salire Perché sapete che possono succedere queste cose qua Adesso ti tranquillizzi un attimino Che adesso andiamo piano piano a dare un'occhiata Cosa ne dici? Ok? 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 Bene Innanzitutto Vado a mettermi i guantini Perchè Non vorrei Visto che è una ferita anche un po' profonda E quindi mi sa che dovremmo dare anche dei punti Ma comunque Non ti devi preoccupare Perchè Non sentirai assolutamente nessun male Nel caso Con i guanti che io vado a mettere I germi che potrei avere Non li vado a trasferire Nella tua ferita Ok? Allora Tu devi stare rilassato e tranquillo Che non sentirai assolutamente alcun male Ok? Garantito Io comunque Sono l'infermiera della scuola Mi chiamo ai rifiusi Noi non ci siamo mai visti Perchè Non ti è mai capitato fino ad ora Di farti male E quindi Adesso io Mi prenderò Mi prenderò Cura di te Ok? Adesso Vieni Estragliati pure qua sul lettino Ok? E adesso diamo un'occhiata Allora Fammi vedere Proprio 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 Una brutta ferita Due punti Due punti o tre Bisognerà sicuramente dare No 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 Tesoro No Non devi Avere Paura Perchè io Ti metterò Un anestetico Che Non sentirei Assolutamente Un male Te lo garantisco Ok? Adesso Andiamo A disinfettare Un pochino La ferita Ok? Sei fortunato C'entra la sfortuna Ma hai anche la fortuna Che non sei caduto In un posto Dove c'era Del terriccio Dell'erba Della ghiaia Che magari Ti potevano entrare Anche Dei sassolini E allora Lì sarebbe stata Un po' più Obbligata La cosa Qua È solo Un taglio Un po' Profondo Che adesso Io Ti Sistemerò Ok Andiamo a prendere Un po' più Eccolo qua E adesso io Andrò A disinfettare Per dare la tua ferita Ok? Ok? Ecco qua Bene, adesso Devi stare Devi stare Super Super Rilassato Ecco qua Andiamo a mettere un altro Disinfettante Disinfettante Bene La disinfettiamo Bene 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 Così Sarà A posto Perfetto Ecco Perfetto Bene 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 Come ti senti adesso? Si è rinfrescata un po' la ferita Ok? Adesso io Prima di farti Prima di farti Iniezione Che ti faccio Per addormentare Ok? Ecco Possiamo Bene Assorbire Perfetto 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 Adesso Attendiamo qualche minuto Che faccia effetto Sì E' anche molto E' anche molto profumata Aiutati Il rilassamento della parte Che si deve trattare Come ti senti? Sì Sì Si senti un po' di formicolio E' normale Bene Ok Ora vado a farti Iniezione Andrò a mettere Un po' di anestetico Più forte Non sentirai nemmeno La puntura Perché Con questo siero Che ti ho dato Non sentirai nemmeno L'aroma Ed era Il ginocchio Ok? Deve stare Rilassato Ok? Ne basta Un pochino Bene Tesoro Allora Vado a Non sentirai Assolutissimamente Algo male Ecco qua Che sarà Fatto Adesso aspettiamo qualche altro ventino Che faccia Che faccia effetto Che faccia effetto La Anestesia E poi Procederò Per dargli Dei punti Due Tre punti E poi ci andremo a mettere un bel gerottino Ok? Ok tesoro Ok tesoro Si Ma se ti pizzicare È assolutamente Normale Il pizzicore Dovrebbe un po' aumentare Un po' il formicolio Verò? Ok? Sta aumentando Perfetto Devi stare tranquillo tesoro Rilassati Ecco Tranquillizzati Che io intanto Prendo un ago Che l'ho già preparato Prima Eccolo qua E andremo a darti Due punti Ok? Allora Perfetto Ora devi stare rilassato Ok? Devi stare Rilassato Che adesso Non sentirai niente Allora Facciamo una prova eh No Non ti devi Agitare Ok? Se io metto la mano qua Senti qualcosa È vero? Non senti niente? Vuol dire che la mestizia ha fatto effetto? Allora procedo eh Tranquillo Tutto bene Perfetto Perfetto Ok? Intimo Andiamo a saldare Andiamo a saldare Sto saldando eh Perfetto Perfetto Ora vado a tagliare Ok? Perfetto Hai visto tesoro? Com'è andata? Eh Tutto bene? Non hai sentito niente vero? Sono proprio contenta Sono proprio contenta Adesso Andiamo a rispettare Un altro pochino Perché Abbiamo Un po' di Residui Da togliere Ok Ok? Perfetto Tesoro Sentiato Adesso Andrò Andrò A metterti Un Perfetto Ah no Questi qua sono rosa Sono normali Eh Visto che tu Sei un maschile Ho questi qua Che sono del colore Da maschile E quindi Ti vado a mettere Uno di questi Che è Azzurro Dove sono Ti vado a mettere Uno di questi Quadrati Che sono Azzurri E sono Bellissimi Perché sono Da maschile Perfetto Ecco qua Ti piacciono? Eh Sì Sono quelli nuovi Ti piacciono? Sono Azzurri Azzurri Ok Ok Ecco qua tesoro Ok Ok Ti lo fermo lì Perfetto Ok tesoro Bene Ora Andiamo a fare una visitina generale Eh? Perché È stato un brutto colpo questo Quindi Andrò A sentirti il cuore Poi Provvedevo La pressione E andremo a fare Un piccolo controllo Della vista Per vedere Se i tuoi occhi Sono a posto E guardano tutti Nella stessa direzione Ok? Ora Ti devi solo rilassare Ok? Ok tesoro Adesso Tirati su la maglietta Che adesso ti visita Ok? Bene Molto Molto Bene Tutto Regolare Adesso Ti siedi con le ginocchia Di là E mi volti la schiena E scopri la schiena Ok? Perfetto Perfetto Ottimo tesoro Super Il battito è un po' accelerato Però è da capire Hai avuto un po' paura per i punti che ti ho dato E per la caduta sei ancora un po' sotto shock Quindi è normale Adesso Andrò Andrò a provarti la pressione Quindi No Non ti devi preoccupare Questo è un attrezzo Tranquillo Tu devi solo Infilare il braccio qua Ok 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 Infila pure il braccio Perfetto Così Perfetto E No, 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 no. Stai pure rilassando, ti sa, ok? Ok. Perfetto, 120-80. Grazie. Andiamo a dare una controllatina alle orecchie, ok? Allora, aspetto che vado a prendere quello più piccolo, questo qua, mettiamo questo. Allora, andiamo a dare una controllatina alle orecchie, ok? Perfetto. Vediamo l'altra. Qua c'è un po' di cerome. Vabbè, però, ho messo tutto ok. Bene, adesso devi guardare questa luce qua. Segui la luce. Ok. Ok. Bellavissimo. Ok. Bravo. Perfetto. Direi tutto perfetto. Ok, tesoro. Allora, il tuo ginocchio è a posto. I punti si levano da soli perché sono quelli che si sciolgono da soli e il geluttino lo potrai togliere tra 24 ore, ok? Ok. Adesso chiamo la maestra che ti venghi a prendere, ok? Così ti vieni. O desidio di tornare a casa, desidio di tornare a casa o proseguire la lezione. a casa o più. Ah, ok. Va bene, va bene tesoro, va bene. Ok. Adesso lo chiamo. Sì. Salve maestra Anna. Sì. Ho qui Antonio. Sì. No, tutto a posto. Sì. Sì. Io ho dato dei punti alla ferita, comunque è stato bravissimo. Ah, lo passi a prendere tu? Ok. Va bene. Lo faccio aspettare qua. Grazie Anna. Grazie. Bene tesoro. Vedo che sei stato molto molto bravo e siccome sei stato bravo io ti voglio premiare con una bellissima cosa. Un gelato. Ti voglio dare un testo di gelato che non è un gelato normale. È giusto anche per la ricreazione. È proprio giusto, giusto. Quindi questo gelatino hai anche qualcos'altro da mangiare per la ricreazione. Ok. Allora ti voglio anche questo gelatino che te lo sei meritato. Tutto, 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 tutto quando tieni tesoro. È arrivata Anna? Bene Antonio. Io spero di vederti. Tra quello felice però sicuramente visitarti nell'aula per sapere come stai. Intanto ti auguro un buon pranzetto e un buon proseguimento con le lezioni. Ciao Antonio ciao. Ciao grazie. Ma figurati. Sei stato bravissimo. Sei stato veramente coraggiosissimo. Ciao Antonio. Ciao. Ciao. Ciao.